benvenuti a una nuova puntata di doctor penis oggi siamo in clinica clinica acquisisana siamo a roma è questo il nostro centro di riferimento dove effettuiamo il maggior numero delle procedure chirurgiche che arrivano alla nostra attenzione la procedura chirurgica è una procedura rapida veloce siamo codificati in questa struttura sia come strumentario chirurgico sia come personale abbiamo strutturato una equip chirurgica con la nostra strumentista con gli infermieri di sala operatoria con l'aiuto in sala operatoria i nostri assistenti è un orologio che si muove cronometricamente all'unisono e ci permette di abbattere i tempi in sala operatoria cosa fondamentale per i rischi di infezione e ci permette di ottimizzare i risultati con un rischio con un tasso di infezione prossimo allo zero riusciamo ad impiantare il nostro device in circa 15 16 minuti oltre a questo abbiamo anche la possibilità di accogliere il paziente il paziente viene preso in carico da quando arriva a Roma o a Milano e viene accompagnato nel suo percorso di rinascita da un punto di vista sessuale qui c'è con me Enrico Enrico Gravina che è il responsabile delle relazioni con i pazienti è colui che si occupa dell'aspetto emozionale nel rapporto si occupa del rapporto con i pazienti cosa che io cerco di di fare ma più di tanto essendo uberato dalla chirurgia non riesco e quindi lui mi dà questo supporto alla grande e ve lo voglio presentare grazie Gabriele sì questo aspetto è fondamentale noi riteniamo che dietro un paziente c'è sempre un uomo un uomo che viene da una storia di ricatti il ricatto peggiore che può avere un uomo sia il ricatto del deficit erettile il ricatto dell'erezione dovuto poi alla fine semplicemente per un guasto idraulico quindi sono uomini guasti tra virgolette da un punto di vista idraulico ma questo guasto rende loro la vita impossibile perché sono uomini che si nascondono degli angoli bui della loro solitudine facendo una vita di evitamento immaginate proprio un evitamento sia a livello emozionale innamorarsi semplicemente per loro diventa una impossibilità e sia anche da un punto di vista fisico avere un rapporto sessuale per loro diventa un motivo di stress un motivo di a volte anche di essere abiliti essere ricevere magari quell'umiliazione a letto e se gli va bene magari uno scusa dopo uno scusa un pietoso perdono allora tutto questo li porta proprio ad evitare il rapporto sessuale questo che cosa significa significa che questi uomini sono destinati al diattito della depressione perché la depressione vedete è quella fine pena mai che un uomo ha dentro di sé allora noi conosciamo perfettamente la storia di questi uomini nella storia della loro sofferenza li vogliamo andare a prendere da lì e accompagnarli durante tutto questo percorso un percorso che deve essere a 360 gradi e portarli da questo voglio ma non posso a un posso ogni volta che voglio e credetemi la scelta la possibilità domani di poter ritornare ad amare ad avere un rapporto sessuale ad avere un rapporto di comunicazione con una donna cambierà completamente tutti i momenti della vita questo è quello che noi facciamo quindi ripariamo da un punto di vista idraulico e rimettiamo veramente alla vita e nella vita la vita delle persone perfetto ottimo enrico grazie sempre del tuo supporto i pazienti sono stra innamorati di te ci vediamo ci vediamo alla prossima puntata di dr penis grazie a tutti grazie a tutti